Ciao, oggi ti mostro come preparare la zucca e funghi in padella. Verso un filo d'olio nella pentola, aggiungo i filetti d'acciughe, la cipolla la lascio imbiondire. Successivamente inserisco anche la zucca che ho precedentemente privata dalla buccia e tagliata a dadini, l'acqua o del brodo in modo da facilitarne la cottura, il sugo, le spezie che più ti piacciono, sanno benissimo lo zenzero del curry, mescolo, copro con il coperchio e lascio cuocere per circa 15 minuti. Dopodiché aggiungo i funghi miei erano congelati, ma se tu ce li hai freschi è ancora meglio. Sfumo con il vino bianco, è ottima la cottura per altri 5-10 minuti, un contorno autonale facile e veloce da preparare anche quando si ha poco tempo per cucinare. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, vienimi a trovare sul mio blog. E se la ricetta ti è piaciuta condividila sui social. A presto con un nuovo video.